Salve a tutti, siamo ritornati anche quest'anno con il Fantacalcio, stagione 2013-2014. Ricordo che l'anno scorso il matatore dell'anno è stato Loris Di Muzio, a cui vanno i miei complimenti per i tre premi vinti, ha vinto praticamente quasi tutto, a parte la Champions per questa, mi dispiace per l'Ume, è finita a me. In virtù di ciò, voglio ricordarvi anche quali sono le novità regolamentari di quest'anno, in primis fate attenzione all'introduzione del modificatore di difesa, quindi vi invito a leggere il regolamento. Sono stati introdotti nuovi criteri per assegnare il premio per il miglior punteggio di giornata, in modo da evitare che ci siano degli acuseguo, è stata introdotta nuovi criteri per stabilire eventualmente gli scambi fasurri o quelli che perlomeno non sono dubbi, con una commissione che deciderà eventualmente se gli scambi segnalati sono effettivamente validi oppure se hanno bisogno in qualche modo di essere penalizzati. In tal senso, vi ricordo che questo è un gioco e che quindi lo spirito deve essere fondamentalmente fondato sul divertimento, sullo sfottò di tutte le settimane. Detto ciò, passiamo a un'altra cosa importante per quanto riguarda il discorso del regolamento è che da quest'anno c'è lo scarto soglia goal, ovvero vuol dire che nonostante ci siano le soglie goal che sono sempre le stesse, quindi 66 il primo goal, 72, 78, 84 e così via, se due squadre si dovessero trovare all'interno della stessa soglia goal ma una supera l'altra di 4 punti, la squadra che ha superato l'altra di 4 punti riceve un gol bomb. Tutto ciò per evitare casi strani come partite che finiscono 66 a 71 e 75 dove il pareggio sembra la cosa più ingiusta, in tal caso la squadra che ha fatto per esempio 71 e 75 figgerà comunque 2 a 1, pur non avendo raggiunto la soglia dei due goal. Detto ciò partiamo con l'estrazione, le squadre sono state tutte trascritte sopra un foglio, ritagliate e sono state rimesse in quest'urna. Praticamente andremo ad estrarre le squadre le singole squadre e alterneremo ogni singola estrazione a uno dei due gironi. Partiamo subito e vediamo quest'anno come saranno formati i gironi. Mi raccomando ragazzi, vi ricordo sempre che è un gioco e mia moglie vi dice di sistemare il girone A o anche 1, dipenderà un po' da come tutti diremo le squadre. Cominciamo subito. La prima squadra estratta che finirà nel girone 1 è la squadra di Luigi Tagliallatela, Angioletto. apri, se non ci legge. Si vede? Si. Ok. La prima squadra che finirà nel girone B è quella di Stefano Piantadosi, CFC Plant. Amore non ti sconvolgere quando uscirà il nome della mia squadra, che l'ho cambiato. Paura. Questa, la seconda squadra del girone 1 è la squadra di Loris Di Muzio, Mare Chiaro. La squadra di Gaetano Ciccarelli finisce insieme a CFC Plant, Sangue Azzurro. Abbiamo un'altra mischiata. La squadra di Giovanni Oretice va nel girone A, numero 1, insieme a Luigi Tagliallatela e Loris Di Muzio. Vincenzo Palumbo, Real Vince, insieme all'amico fraterno Gaetano Ciccarelli. E questo è un girone di ferro già, eh? Oh, la squadra mia, quella di Francesco Petticamo, Bogafica Junior, finisce nel girone A, insieme a Loris Di Muzio. Finalmente ci scontreremo direttamente dal nostro girone. Così vediamo il girone A. Oh, poveri noi. Ma che caspita di nome gli ho messo? Dios, Luigi Sebastianelli, girone 2, girone B. Ah, questa è la squadra che ha il nome che mi piace. Anche l'anno scorso lei dicesse. Hai visto? Pampasostra, invece Sebastierelli sceglie sempre Dario Rom, infatti. Nero Stellato, Pasquale Sessa, nel girone 1. Salvatore Gioiello, 11 leoni, nel girone 2. Ah, è capitato con Vincenzo, Sebastianelli, Gaetano, Stefano, Sebastianelli e Salvatore. Eh, è un bel girone questo, eh. E' un bel girone questo, eh. Il sabato chissà quest'anno come andrà. Giuseppe Guidotti, Napoli Mania. Aspetta. Un altro grande giocatore che fa fantacalcio da anni. Questa volta capita nel girone 1. Ah, capita con te, con Loris, Pasquale Sessa. Eh, pure di qua non è malvagio, eh. Eh, sì. Luca Di Tommaso, Chieti Azzurra, nel girone 2. Aspetta, non ti muovere. Ok. Ancora non sono uscite le nuventi. Ma poi per gli ucchi. Quattro squadre sono, sì. Ok. Ci troviamo noi oggi. Nermano. Antonio Refice, Shining 77. Stavolta cambio girone, non capita nello stesso girone del cognato. Ah. Di Salvatore e quindi nel girone 1. Si dividono. Si dividono stavolta, sì. Costantino Simeone, girone 2. Mamma mia. Aspetta. Questo sarà un girone di ferro, ragazzi. Ok. E gli ultimi due sono ora le due nuove nuventri. Vediamo come... Stavolta questo panatillo. Vediamo un po'. Chi è? Fabrizio Fiorillo, Drag Team, finisce nel girone 1. Ok. E quindi per ricordi logica... L'ultimo è Umberto Marrazzo, FC Turris 1944, che finisce nel girone 2. Niente. Detto ciò, adesso scriveremo i due gironi. Vi ricordo che troverete suddivisi gironi a partire da mercoledì alle ore 9. Per il semplice fatto che nel momento esatto in cui io provvederò a dividere i gironi partirà l'asta. Avendo stabilito che l'asta partirà da mercoledì 21 agosto, credo, alle ore 9, qualche minuto prima di far partire l'asta, suddividerò le squadre in girone. Le pubblicherò appena possibile nel gruppo e ovviamente su YouTube. Fatevi quattro risate. Sempre Forza Napoli. La Juve è una merda e speriamo quest'anno di vincere lo scudetto. Non si dice. Ciao, alla prossima!